Buona giornata, oggi voglio affrontare un argomento interessante, quantomeno dal mio punto di vista, ed è relativo al dimensionamento dei serbatoi di accumulo o serbatoi inerziali. In sostanza, quando andiamo a dimensionare un gruppo frigorifero a servizio di una serie di utenze, o anche solo di un'utenza singola, è importante valutare i livelli di temperatura necessari su quest'utenza. Mi spiego qui. Molto spesso i nostri gruppi frigoriferi vanno ad asservire centralini di termoregolazione o termostatazione di reattori, macchine farmaceutiche, processi industriali, dove ci sono delle variazioni di temperatura anche importanti. In pratica si ha la necessità di raffreddamento, ma sullo stesso processo si ha anche la necessità di riscaldamento, mantenimento ad alte temperature. Cosa accade? Partiamo da un esempio di un reattore farmaceutico o un reattore chimico. Proviamo di avere un prodotto che necessita di essere portato a una temperatura elevata, 90 gradi, per ottenere la reazione chimica desiderata. Una volta che abbiamo ottenuto quel tipo di reazione viene mantenuto in temperatura, magari per un certo periodo, quindi deve essere raffreddato per poter essere lavorato, stoccato. Ci ritroviamo con una massa, un volume di prodotto a una temperatura elevata, una camicia del reattore con dentro un fluido a una temperatura elevata, tutto questo va raffreddato. La centralina di termoregolazione cosa fa? Chiude la sezione di riscaldamento, apre la sezione di raffreddamento. E come la apre? Apre una valvola su uno scambiatore, che può essere una valvola a due vie, a tre vie, modulante, on-off, eccetera. Chiaramente il gruppo frigorifero è dimensionato per il raffreddamento di questa massa in un certo tempo. Ma nel primo momento in cui inizia il raffreddamento abbiamo un'enorme massa ad alta temperatura che entra in uno scambiatore dove sul secondario abbiamo dell'acqua fredda e questo scambiatore inevitabilmente andrà a scambiare una potenza termica molto elevata. Perché? Perché abbiamo un delta T medio logaritmico elevatissimo che fa aumentare l'efficienza dello scambiatore e quindi tutta quella potenza va a scaricarsi nell'acqua di raffreddamento. Se non abbiamo un volume e quindi un volano termico importante rischiamo di mettere in crisi il gruppo frigorifero. Perché? Perché se abbiamo poco volume tutta questa energia viene scaricata all'interno del serbatoio freddo l'acqua che dovrebbe tornare al gruppo frigorifero, ammettiamo, a 15 gradi per essere raffreddata a 10 arriva a 40, 45, 50 gradi per un transitorio ma è sufficiente per portare le pressioni di evaporazione del gruppo frigorifero fuori dal range di funzionamento. Il gruppo frigorifero va in blocco, si ferma tutto e non otteniamo la frequenza. È importante quindi determinare il volume di questo volano termico, di questo serbatoio buffer, chiamiamolo così per poter avere, come dire, un volano che consente di attenuare queste punte. In pratica consente di mandare al chiller l'acqua a una temperatura che non lo metta in crisi. Come si calcola? Si calcola in funzione dei volumi che abbiamo in gioco, dell'energia che abbiamo in gioco e ci si tiene un margine sul volume di questo serbatoio in modo che nei picchi di lavoro le temperature rientrino nel range di lavoro del gruppo frigorifero. Quindi 20, 25, 30 gradi al massimo. Qui poi bisogna confrontarsi con i dati tecnici del gruppo frigorifero per il quale abbiamo fatto una progettazione degli uomini. Non è un calcolo scontato, è un calcolo importante dove il cliente ci deve aiutare dandoci le informazioni base del suo impianto. Quindi ci deve dire effettivamente quali sono i volumi di acqua in gioco nel suo impianto, la lunghezza delle tubazioni, il volume in questo caso del reattore, la velocità che gli serve per il raffreddamento per poter dimensionare adeguatamente il gruppo frigorifero. Chiaramente aiuta avere sulla sezione di raffreddamento della centralina magari una valvola modulante a tre vie che consenta di impostare una rampa di raffreddamento che rispetta le temperature e i tempi del cliente ma che consente al chiller di lavorare in modo adeguato senza dover andare in crisi. Se vi interessa questo argomento fatenevo sapere che cerchiamo di approfondirlo. Buona giornata, grazie.